La carretrata Rania Hawks si ritrae Robben Dei d'altri. Stacco della macchina con 3-4 su di una linea. Dall'interno Rachmaninov Vigi con a largo Rubinia Griffi in mezzo alla pista Rio Bargallungue Birilli Rouge BF. Seconda fila più sollecita è Rachele Trio. I 200 metri iniziali passati in 14.5. Di fronte in vantaggio Rachmaninov Vigi nei confronti di Rubinia Griffi e Rouge BF. Numero 5 Ratzinger Lake squalificato. L'unica novità l'errore è la squalifica per Ratzinger Lake. 30 appena abbondanti i 400 metri iniziali Rachmaninov Vigi che mantiene cadenza appropriata. 1.5 di margine nei confronti Rubinia Griffi a identico intervallo. È in terza posizione Rouge BF. La mossa in terza corsia in aggiramento su Rio Bargall da parte di Rachele Trio. 46, spacciato i 600 metri iniziali. Si va verso il completamento del giro. Passato a leader Rachmaninov Vigi in 1.1.5 31.3 da metà a dritta di fronte sino al palo per il passaggio. Prosegue in vantaggio Rachmaninov Vigi sulla coppia composta da Rubinia Griffi e Rachele Trio. Rio Bargall che cerca di andare dietro ai migliori. Il completamento del chilometro in 1.17 e qualche virgola. In vantaggio Rachmaninov Vigi ora messo sotto pressione a Rachele Trio. Rachele Trio insiste a metà a dritta di fronte. Due prendono margine a Rubinia Griffi. Dal fondo del gruppo la mossa in terza corsia. Parte di Robben dei Daltri quando segnala il completamento dei 1.2. Chiusi a un paletto in 15 appena abbondante. 1.32 e mezzo ai 1.2. E Rachele Trio tende a passare nei confronti di Rachmaninov Vigi sulle sue tracce. Rubinia Griffi sul passo. Per cui i mostri sono seguiti da Robben dei Daltri per le vie brevi. C'è Rouge BF all'ingresso della dritta di Rio. 200 metri per venire a casa. Rachele Trio è in vantaggio dalla corda. Cerca di venire via. Rouge BF tagliando fuori. Rubinia Griffi in calo da Quarinov Vigi. Rachele Trio è in vantaggio nei confronti. Rubinia Griffi nel tratto conclusivo. Rubinia che rimonta l'avversaria. Rubinia Griffi che stampa a Rachele Trio. Al terzo termina. Rouge BF avanti a Robben dei Daltri. 2.3 appena abbondante il totale. 37 gli ultimi 4. Il successo di Rubinia Griff e Neopuk alla guida e al train. Per i colori della scuderia terremoto. 1.16.5 la media al chilometro della vincitrice.